hola gringos salvi a tutti e ben ritrovati ancora una volta su mucchio divino oggi voglio darmi un'informazione ovvero io avevo un secondo canale qui su youtube che però ho usato praticamente pochissimo questo canale si chiamava mucchio selvaggio community ora mi è venuta l'idea di utilizzare questo canale che ora non si chiama più mucchio selvaggio community ma si chiama vg future games lo lascerò in descrizione è un canale che userò prettamente per ricaricare le live di twitch perché come sapete le live di twitch dopo massimo un mese almeno per chi è partner vanno via non ci sono più e quindi per conservarle io le metterò su questo canale anche perché c'è questa funzione di twitch che dà la possibilità una volta che una persona ha fatto una live poi di ricaricarla automaticamente su youtube c'è anche un editor volendo si può cambiare insomma non sto fare qua la spiegazione di come funziona però farò questa cosa anche per agevolare la fruibilità fondamentalmente del canale twitch perché magari qualcuno vuole vedere il contenuto su youtube on demand quindi dopo che è stata registrata e quindi non in diretta ma questo non vuol dire che magari la qualche volta si potrà fare si potrà organizzare pure qualche diretta direttamente sul canale vg future games ok questo canale mucchio selvaggio ovviamente continuerà ad essere attivo però principalmente si faranno approfondimenti recensioni vlog eventi particolari che si organizzeranno insieme al resto della community del mucchio selvaggio e poi ovviamente ragazzi stiamo parlando di qualcosa in divenire quindi se magari un domani ci saranno delle esigenze particolari ovviamente lo comunicherò però sappiate che da oggi al in poi farò questa modalità qui ovvero streamerò su twitch e successivamente ricaricherò il contenuto su vg future games ho fatto già una prima prova a questo sabato effettivamente non avevo chiamato nessuno tuttavia qualcuno è venuto e ha potuto assistere diciamo a questa prima prova che ho fatto e già tra l'altro questo video è già presente sul canale youtube vg future games che vi lascio in descrizione questa era la notizia molto risicata che volevo darvi perché da oggi in poi quando giocherò fondamentalmente a qualche gioco lo farò tramite twitch e contemporaneamente poi ricaricherò il contenuto questo significa che tratterò tutta una serie di giochi che normalmente gioco e che magari non condivido con voi un po per il problema che non sapevo come fare per insomma trasportare queste cose un po perché fondamentalmente io tengo questo problema della linea che ogni tanto va e viene capite quindi che non è sempre possibile tuttavia questa situazione questa soluzione secondo me mi sembra la più opportuna quando caricherò ovviamente da twitch al canale youtube non aspettatevi che ci sarà che sarà un editing no che verranno praticamente ricaricate le live così come vengono fatte ok posso capire che farlo in live a una funzione ovviamente ricaricate dopo non è la stessa cosa però questo non toglie che magari qualcuno che voleva seguire qualche diciamo qualche gameplay di qualche gioco che mi ha chiesto lo può comunque fare lì senza stare lì che deve correre perché poi i video vanno via su twitch è giusto per diciamo ingrandire ancora di più l'offerta quindi questo era quanto io vi ringrazio e vi aspetto per le live su twitch e dopo ricaricate sul canale di g future games se non l'avete ancora fatto andatevi ad iscrivervi ci vediamo la prossima volta ciao